Gentili telespettatori, buona giornata. È il vero speculatore, quello più grande di tutti, credo proprio che sia il governo. Sui costi, sui rialzi di benzina, energia, grassa, luce. La piccola mossa di Mario Draghi, la mossa minima di Mario Draghi. Fino a fine aprile 25 centesimi in meno di benzina, ma dopo ci teniamo tutto noi perché gli sordi ci servono, i partiti hanno tante bandierine. Pertanto possiamo chiamarle i minimi interventi contro il caro energia per non peggiorare i saldi di bilancio. Mario Draghi ha sfoderato, sfornato il provvedimento che stanzia 4,4 miliardi. Una cifra che si aggiunge ai 15,5 già messi sul piatto da luglio scorso fino ad oggi per l'aumento delle bellette. E sti soldi da dove sono spuntati, sti 4,4 miliardi? Intanto si è parlato di taglio delle accise sulla benzina, crediti di imposta per le imprese, buoni carburante esentasse, rateizzazione delle bollette, allargamento del bonus sociale per le famiglie. Ma da dove spuntano poi sti soldi, sti 4,4 miliardi? Questi soldi non arrivano dal debito pubblico, non si è fatto scostamento di bilancio. Scostamento di bilancio significa fare debito pubblico. Questa volta no. È stato largamente finanziato con una tassazione degli extraprofitti straordinari delle imprese energetiche che hanno beneficiato dei rincari straordinari dell'energia. Come spiegato poi Franco, il ministro dell'economia, verrà preso in esame il flusso dell'IVA attiva e passiva delle aziende dell'ultimo semestre rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. Facendo la differenza dell'IVA pagata nei primi mesi di quest'anno rispetto ai primi mesi dell'anno scorso, visto che il prezzo si è alzato, si paga in percentuale più di IVA. Quel surplus di IVA viene preso e viene utilizzato. Però, spiegato meglio, diciamo così, che su quella parte eccedente se supera i 5 milioni e se lo scostamento è superiore al 10%, si applicherà un'aliquota del 10%. Tutta una roba un po' complicata. Però da questo giochino ricava il tesoro 4 miliardi di euro. Praticamente quasi tutto lo stanziamento previsto dal decreto. Un'altra copertura invece sull'intervento sui carburanti. Il decreto introduce uno sconto complessivo a detto Draghi di 25 centesimi al litro fino alla fine di aprile. Le risorse arriveranno dal gettito IVA, entrato nelle casse attraverso gli aumenti dell'ultimo trimestre. Risorse stimate 500 milioni. Per quanto riguarda il limitato arco temporale, il governo lo ha giustificato con delle argomentazioni tecniche. Dice, l'intervento è corto. Dice, per vedere il mercato come si comporta poi decidiamo. Farlo più a lungo, dice il ministro della transizione ecologica Cingolani, avrebbe rischiato addirittura di essere controproducente, considerate le oscillazioni dei prezzi delle ultime settimane. Come dire, non si sa, non sia mai che, se mettiamo questo sconto fisso, poi la benzina scende e il governo ci rimette soldi di tasse e accise che servono per il bilancio statale. Quindi andiamo magari a perdere dei soldi dal bilancio, non sappiamo più dove trovarli. E così, facciamo questo intervento minimo e dopo vediamo se i prezzi della benzina scendono. Ma i prezzi della benzina salgono immediatamente e poi a scendere fanno molta fatica, a volte non scendono. Quindi si parla di speculazioni. Ma secondo me il vero speculatore sull'energia è il governo. Si parlava delle aziende che hanno le loro responsabilità, ma il governo diventa il socio di questi speculatori. Ci dividiamo l'eccedenza. Contro il caro benzina si muove anche l'antitrust. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha chiesto ieri informazioni alle maggiori compagnie petrolifere, avvalendosi anche dell'ausilio della Guardia di Finanza. L'obiettivo è quello di approfondire le ragioni di tali aumenti e nel caso valutare un intervento circoscritto soltanto all'ipotesi di un'eventuale violazione delle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza. Tra le altre misure, il provvedimento, alzando il tetto base dell'ISEE da 8.000 a 12.000, allarga di 1,2 milioni la platea del bonus sociale per le bollette. Passeranno, dice Draghi, da 4 a 5,2 milioni le famiglie che pagheranno l'energia, come la scorsa estate. Gli altri, chi se ne frega, no? Quindi chi ha un'ISEE di 12.000 euro vuol dire un'ISEE di 1.000 euro al mese. Chi guadagna 1.500 si becca la bolletta dell'elettricità al triplo, il gas al triplo e la benzina col 60% di aumento. Secondo voi, gli altri, con 1.500-2.000 euro, possiamo definirli ricchi, benestanti? Oggi, nel 2022, portare a casa 2.000 euro non possiamo dire che uno è benestante. Ricco non ne parliamo. Benestante direi proprio di no, con 2.000 euro netto al mese. Certo, per alcuni è tanti, per quelli che prendono 700 euro al mese direi poterne avere 2.000, ma la realtà è questa. Quelli con stipendi un po' più alti o normali, 1.500 euro, 1.400 euro, si beccano tutti gli aumenti senza nessun tipo di sconto. Però poi arriva la possibilità di pagare le bollette arate per le imprese. fino a due anni per il costo delle forniture energetiche. Pensate un po' all'azienda che paga la bolletta del mese di marzo a rate per due anni. Se un'azienda arriva a pagare una bolletta a rate per due anni, le altre cosa fa? Le fa tutte a rate per due anni? E le rate poi si sommano. Perché tu il mese dopo, se fai questa bolletta di marzo a rate, ogni mese hai le rate. Se poi quella di aprile la fai a rate, si sommano le rate di marzo più le rate di aprile. E se poi quella di maggio la fai a rate, puoi chiudere perché non ce la fai più a pagare rate su rate. Quindi la possibilità di pagare a rate le bollette mi sembra veramente l'ultima spiaggia prima del fallimento. Ci sarà poi la possibilità per le aziende di erogare ai dipendenti fino a 200 euro di buon carburante esentasse, mentre viene introdotto un ulteriore taglio ai pedaggi degli autotrasportatori con uno stanziamento di 20 milioni. Per le imprese in difficoltà arrivano altre settimane di cassa integrazione in deroga, 150 milioni di euro. E per fronteggiare la scarsità di materie prime, su richiesta del ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti, viene previsto un controllo delle esportazioni verso paesi extracomunitari, la cui compatibilità con le norme comunitarie dovrà essere verificata con Bruxelles. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.